E' un giorno importante per l'Europa, per il Parlamento europeo, c'è l'insediamento e siamo entusiasti di questa nuova sfida. Noi portiamo al centro dell'Europa i problemi sociali, i problemi della pace, la richiesta del cessato del fuoco e la sfida appunto di una transizione ecologica e sociale nel cuore dell'Europa. Abbiamo manifestato la nostra delusione nei confronti delle parole ieri di von der Leyen che abbiamo incontrato e che ci ha presentato questo programma, un programma che non è orientato alla pace, che non è orientato alla transizione ecologica e non mette al centro il lavoro e soprattutto l'Europa sociale che noi vogliamo. Quello che abbiamo chiesto è piuttosto che un commissario alla difesa, come ci ha annunciato, un commissario alla pace, un diplomatico europeo che possa risolvere le controverse, si impegni giorno per giorno su questo e che quindi metta fine all'invio delle armi.